... ... Dicevo, signore e signori, è un momento di riflessione perché per l'ennesima volta ci è vietato a fare qualcosa in questo caso cantare e fare musica o meglio, siamo precisi, è vietato a usare l'amplificazione potre attraversi, è vietato a usare l'amplificazione Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.